Ciao a tutte e ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei preferiti del mese, nello specifico dei preferiti del mese di marzo. Non sono tantissimi i prodotti, ho scelto veramente quelli che ho preferito, che mi sono piaciuti di più in assoluto, anche se sono stati tantissimi, ovviamente sono tanti i prodotti che usiamo durante il mese, ma questi sono quelli che veramente mi hanno entusiasmata tantissimo. Qualche prodotto lo utilizzo da veramente poco, ma mi sono sentita di inserirlo tra i preferiti, perché ero entusiasta insomma di volervene parlare, quindi l'ho messo tra i preferiti. Allora, partiamo subito così, non mi perdo in chiacchiere, il video non è troppo troppo lungo. Allora, per quanto riguarda la cura dei capelli, ho scoperto, tra l'altro, volevo dirvi appunto come avete letto dal titolo, questo è un video dei preferiti, ma tra scoperte e riscoperte. La maggior parte dei prodotti che vi mostro oggi sono tutte delle scoperte che ho fatto appunto ultimamente. Allora, il primo prodotto è un prodotto per la cura dei capelli, che ho acquistato al tulipano, di questa marca, Blue Orange Pro Evolution, essenza di bellezza, è questo prodotto qui, che è un balsamo senza risciacquo all'olio di argan. È la prima volta che utilizzo un balsamo senza risciacquo, non li avevo mai utilizzati e questo in particolare è all'olio di argan 100% biologico e non contiene parabeni, non contiene paraffina né alcol, quindi è un prodotto 100% bio. È perfetto per tutti i tipi di capelli e contenendo appunto l'olio di argan è un prodotto che conferisce brillantezza, che cure e previene le doppie punte e può essere tranquillamente utilizzato anche per proteggere i capelli dalle fonti di calore, quindi dal phon, dalla piastra, donando poi quando il capello è asciutto questa brillantezza, questa lucentezza proprio di capello sano. E poi la profumazione è veramente ottima. Non è un profumo, non è un prodotto troppo corposo, troppo denso, che tende a sporcare ad appesantire i capelli perché a volte mi capita di utilizzare dei prodotti così densi in crema che mi danno la sensazione appunto di avermi sporcato i capelli subito dopo averli lavati. Questo invece è un ottimo prodotto, ve lo straconsiglio, è perfetto sia per capelli ricci che per capelli lisci perché fondamentalmente la sua caratteristica è quella appunto di donare nutrimento, lucentezza, brillantezza e un aspetto molto sano ai capelli. Il prossimo prodotto è un prodotto che all'inizio non mi aveva colpito particolarmente, l'ho dovuto utilizzare per un po' di tempo per arrivare a stabilire che invece mi piace moltissimo ed è la famosissima acqua micellare viso occhi e labbra detergente struccante di Equilibra Alargan. Questa è famosissima, io l'ho acquistata proprio perché ne ho sentito parlare bene veramente da tutte e quindi ho deciso di utilizzarla. È un'acqua micellare che non contiene parabeni e siliconi, né petrolati e PEG, né oli minerali e paraffina, né accessori di formaldeide, né coloranti ed è delicatamente profumata senza allergeni. Io in realtà se devo trovare un difetto è proprio la profumazione che non mi piace, mi dà un po' di fastidio, cioè preferisco dei prodotti che servono appunto per struccarmi, che abbiano una profumazione molto delicata, quasi in odore, però diciamo è una sottigliezza, nel senso che poi il prodotto mi piace moltissimo. È un'acqua micellare arricchita con acido ialuronico e mi piace insomma moltissimo, deterge, strucca senza irritare, rimuove ogni traccia di make-up, è un prodotto che può non essere risciacquato, strucca benissimo il trucco waterproof, i rossetti lunga tenuta, i mascara quelli più waterproof resistenti e anche questa, così come le acque micellari di Garnier che io adoro, non mi irritano la zona del contorno occhi, quindi questo è un prodotto che mi piace moltissimo. L'ho utilizzata senza risciacquare il viso e mi piace l'effetto che dona la pelle, molto morbido, pulito, compatto, ma io preferisco sempre risciacquare i prodotti che utilizzo per struccarmi perché ho la sensazione di avere eseguito una pulizia un pochino più profonda, quindi stra-pro-mossa e anche in questo caso parliamo proprio di una bellissima scoperta. Il prossimo prodotto, diciamo fondamentalmente, è una scoperta, perché in realtà avevo utilizzato altri prodotti di Roberts, però non avevo mai utilizzato questa, l'acqua alle rose, ed è appunto l'acqua distillata alle rose, questo tonico rinfrescante, anche questo è un prodotto insomma super conosciuto, perché insomma si sente molto parlare di questo prodotto sul tubo, mi è piaciuta moltissimo, innanzitutto mi piace la profumazione di rose, quindi molto molto delicata sulla pelle, mi piace l'effetto che lascia sulla pelle quando lo tampono sul viso oppure lo spruzzo direttamente, perché mi dà proprio la sensazione di svegliarmi, cioè io utilizzo il tonico fondamentalmente perché mi dà una botta di energia, perché è sempre molto fresco, quindi mi piace utilizzarlo appunto soprattutto la mattina perché mi dà quella sensazione di risvegliarmi piacevolmente, questo è un tonico che mi piace moltissimo e la sua formula è delicata, con essenza di nobili rose dalle proprietà idratanti, tonificanti, rinfrescanti, aiuta a prevenire i rossori, le irritazioni causate dagli agenti esterni, quindi è anche molto molto lenitiva, quindi anche questo prodottino strapromosso. Il prossimo prodotto è ancora una scoperta, ve ne avevo parlato se non sbaglio in un video haul, sono queste salviettine che ho acquistato al Tulipano, quindi è una marca che si trova lì, si chiamano Speedy Care, sono salviettine struccanti, detergenti, all'acqua micellare con acqua di camomilla e vitamina E, senza alcol e senza parabeni, e vi ho detto tutto, sono queste salviettine qui, 20 salviettine, mi pare le avevo acquistate 1,28€, mi sono piaciute tantissimo, mi piacciono moltissimo, mi piace molto la profumazione, sono delicate, struccano benissimo, non mi irritano, quindi non mi metto a perdere tempo a dire altre cose, è un prodotto veramente valido, che vi straconsiglio. Il make up lo lascerò alla fine, per quanto riguarda sempre la skin care, la cura del viso, devo promuovere assolutamente, anche qui parliamo di una scoperta, questo gel con tornocchi in stick di Equilibra, un gel d'aloe, stick con tornocchi, borse e occhiai col 40% di aloe vera. Questo è un prodottino che si presenta in questo modo, con, scusate, ma si è scaldato e mi è venuto fuori tutto, che si presenta così, vedete, come uno stick e va poggiato qui sulle occhiaie e poi leggermente tamponato, così picchiettato con le dita. ha, dona una sensazione bellissima al contorno occhi, fresco, tensore, regala una luce diversa proprio al contorno occhi, ovviamente non è che fa sparire le rughe, segni del tempo, però dà una sferzata proprio di freschezza e di luminosità al contorno occhi, mi piace moltissimo come prodotto e quindi anche questo sta strapromosso. Poi, passando al corpo, ovviamente voi sapete, magari qualcuno può dire mamma mia questa con queste cose al cocco, al monoi, però la mia è una vera e propria passione, io adoro il profumo del cocco, il profumo del tiaree, adoro veramente tantissimo queste profumazioni tutto l'anno, non soltanto durante la primavera e l'estate. Questa è una lozione per il corpo che mi è stata regalata da mia cognata, della marca Palmers, Coconut Oil Formula, ed è appunto una lozione per il corpo al cocco che io adoro. Questa è una riscoperta perché quando mi è stata regalata l'ho utilizzata, però avevo voglia di finire altri prodotti che avevo già aperto e che stavano andando a termine. Adesso ho deciso di riutilizzarla e di finirla, è meravigliosa. È un prodotto senza parabeni, senza talati, né oli minerali, né glutine, né solfati ed è formulato con un olio di cocco naturale. Vedete, questo è un marchio che si riesce a reperire, credo solo online, ma ci sono tantissimi siti, anche inglesi, che spediscono in Italia, che hanno tantissimi prodotti Palmers, a me piacciono moltissimo. Questa crema è, a parte la profumazione di cocco, buonissima e si sente anche che è un cocco non troppo finto, non troppo artificiale, chimico, come dire. E mi piace molto perché è arricchito con vitamina E e mi lascia una pelle proprio morbida, elastica, ben idratata, profumata. Soprattutto in questo periodo, mi ripeto sempre, ho la pelle veramente molto secca, soprattutto delle gambe e questo è un prodotto che secondo me prepara perfettamente la pelle per poi essere esposta. Visto che adesso viene la bella stagione, cominciamo ad indossare le gonne, gli abitini e così via, è bello avere una pelle bella nutrita e idratata. Quindi questo, se vi capita, fate un giro sui vari siti e cercate i prodottini Palmers perché sono favolosi. Passiamo adesso al make-up. Scoperta delle scoperte, super, mega, fantastico. Il fondotinta HD Liquid Coverage 24 Ore di Catrice, che tra l'altro ultimamente ho acquistato in un'altra colorazione, perché questo che possiedo è la colorazione 040 Warm Beige. Ho acquistato anche la Sand Beige, che è la colorazione precedente, la 030, perché in questo periodo, che non sono proprio abbronzatissima, questo è leggermente, ma proprio poco 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 più scuro. Infatti il make-up di oggi l'ho realizzato proprio con l'altra colorazione, quella più chiara. Che dire di questo fondotinta? Effetto seconda pelle, super mattificante, facile da stendere, ultra coprente, dura tutto il giorno, perfetto soprattutto per le pelli grasse, non lucida, forse non è propriamente un prodotto adatto per le pelli secche, perché tende un tantino, essendo un mattificante, ad asciugare, quindi magari se idratate tanto, 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 questo è un prodotto che può essere buono anche per le pelli secche. In generale è un fondotinta pazzesco, cioè è un fondotinta meraviglioso, che dà un effetto proprio porcellano al viso, ma senza essere tipo stucco, tipo ceramica praticamente, nel senso che, che c'entra la ceramica? Vabbè, comunque. Allora, senza dare quell'effetto stucco di strati su strati di fondotinta, costa 7,90€, 7,99€, ragazze, non ha nulla da invidiare ai fondotinta blasonati, quindi questo è un prodotto meraviglioso che io veramente vi straconsiglio, soprattutto se avete bisogno di un prodotto, magari se avete un evento importante, dovete affrontare una giornata in cui non potete ritoccare il trucco e siete fuori tutto il giorno, questo è veramente un prodotto che vi garantisce un risultato perfetto. Prossimo prodotto che possiedo da relativamente poco, e in questo caso parliamo sempre di una scoperta, perché le riscoperte sono solo due, e ve le ho lasciate alla fine, ragazze, e parlo della Banana Dreams Loose Powder di V7, prodottino che anche in questo caso vi avevo fatto vedere in un video haul, acquistino fatto su maghiaia, e questa è una cipria in polvere libera, di quelle un po' gialline, quindi perfetta proprio per minimizzare le discromie, per dare luminosità all'incarnato, mi piace perché è una polvere finissima, che non fa strato, che mi dà un effetto naturale, mi mattifica il trucco e dura tutto il giorno, quindi questo è stato un acquisto super 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 speciale, che vi straconsiglio, costa pochissimo, sul sito di maghiaia mi pare che costi 2,90€ ed è davvero un ottimo prodotto, sono 20 grammi, vi dura un'eternità e vi garantisce un risultato perfetto, prossime due scoperte, sono due scoperte rossettose, non vedevo l'ora di parlarvene, allora uno è un rossetto che è quello che ho su, questo, e che in realtà ho acquistato da pochi giorni, ma deve entrare per forza a pieno titolo tra i preferiti del mese di marzo, perché lo sto adorando, lo sto usando tutti i giorni e mi dispiace il fatto di non averlo scoperto prima, è un rossetto di Revlon della linea Super Lustrous Lipstick, però dei matt, ed è il numero 15, il nome di questo rossetto è Seductive Sienna, il rossetto vedete si presenta così, in questo stick molto classico dei rossetti Revlon, e questo è il colore, questo marroncino rosato che è veramente bellissimo, perfetto secondo me anche per questa stagione, è un nude bellissimo che secondo me va benissimo su qualunque tipo di incarnato, è elegante, è femminile, è sia perfetto, diciamo così, da giorno, da poter applicare durante la giornata, che è con un trucco un pochino più sofisticato, mi piace perché ha una buona pigmentazione, è morbido sulle labbra, molto confortevole, la tenuta non è il massimo, però in sé per sé, diciamo, in linea generale, il prodottino mi piace tantissimo, l'ho pagato 11,90€, perché mi piace molto il colore, dona un aspetto veramente elegante, molto naturale, quindi sono molto entusiasta di averlo acquistato, e poi questo è un rossetto, sempre una scoperta perché io di questo marchio che conoscevo, ma di cui non avevo assolutamente acquistato mai nulla, un rossetto di Nuba, che è una marca che io trovo al tulipano, questo fa parte della linea Velvet Touch, è il numero 6, questo è lo stick, diciamo il pack, e questo è il rossetto, vi ho postato una foto su Instagram, è un rosa malva meraviglioso, uno tra i più belli che io possieda, è un rossetto con un colore veramente bellissimo, super elegante, io adoro rossetti color malva, vi faccio uno swatch, anche in questo caso parliamo di un rossetto molto molto pigmentato, molto morbido, scorrevole, non è un matt troppo duro che secca le labbra, rimane comunque molto confortevole, mi ha sorpreso innanzitutto la colorazione che è bellissima e soprattutto la durata, perché dura veramente tantissime ore, non vi aspettate che duri 12 ore, però le sue 6 ore non se le fa tranquillamente perfette sulle labbra, comunque due rossetti bellissimi ragazzi, allora questo di Nouba è il numero 06, mentre quello di Revlon il numero 015. Adesso passiamo alle riscoperte, sperando che la batteria, oddio, non la batteria, la memoria della scheda non finisca così all'improvviso, e sono due prodotti per gli occhi, uno è un prodottino che ho acquistato forse due anni fa, ed è un correttore di Laura Mercier, cioè questo è un gioiello, è un gioiello tra i correttori, si chiama praticamente Undercover Pot, perché è così formato, allora abbiamo all'interno due correttori, abbiamo questo che è un pochino più aranciato, quindi perfetto per coprire, mascherare, insomma le occhiaie scure, e poi questo un tantino più chiaro anche per illuminare, e poi vedete si apre così e all'interno abbiamo questa polvere, questa cipria finissima che serve appunto per fissare, compattare qui dopo l'applicazione del correttore per farlo durare di più e per illuminare questa zona, questo è un prodotto magico, ha un costo eccessivo, però è un prodotto fantastico ragazze, perché il correttore è meraviglioso, cioè copre l'impossibile, cioè quando applichiamo un correttore del genere veramente abbiamo questa zona qui, wow, super illuminata, occhiaie sparite, dura veramente tutto il giorno, non mi va nelle pieghette, ed è davvero uno di quei prodotti secondo me must have, cioè che una volta nella vita andrebbero acquistati, perché è veramente meraviglioso, mi piace tantissimo, e lo so ovviamente utilizzando in questo periodo, e l'ultimo prodottino che vi faccio vedere, ed è una riscoperta, perché non mi ricordavo neanche di averlo, è un color tattoo 24 ore di Maybelline, ed è un ombretto in crema, sto cominciando a riutilizzare gli ombretti in crema, perché adesso comincia a fare più caldo, sono più pratici, sono più veloci da applicare, se andiamo di freddo oppure abbiamo già caldo e non ci va di stare lì a truccarci, gli ombretti in crema sono veramente dei magnifici alleati, questa è la colorazione 35 on and on bronze, ed è semplicemente meraviglioso, innanzitutto perché, allora vedete, questo è il colore, è un bronzo, quindi bellissimo anche per la, soprattutto per la stagione estiva, perché sulla bronzatura è perfetto, adesso vi faccio vedere, è magnifico questo prodotto, guardate, il colore è stupendo, stupendo, basta lui da solo per creare il make up degli occhi, un po' di mascara, un bel rossetto e siete a posto, io ve li straconsiglio come ombretti in crema, forse sono i migliori secondo me, questi i color tattoo di Maybelline, perché sono facilmente sfumabili e una volta che si asciugano e si fissano sulla palpebra, vi garantiscono un risultato davvero lungo tutto il giorno, quindi il trucco rimane perfetto, in realtà io questo l'ho acquistato qualche anno fa, non so, io credo che ci siano ancora comunque che Maybelline li produca o che comunque ci sia ancora questa colorazione, vi ricordo è la numero 35 on and on bronze, dunque ragazze, la batteria mi sta abbandonando, quindi di corsa di corsa vi saluto, vi mando tanti baci, vi ringrazio per aver visto il video, mi raccomando se il video vi piace un bel like, iscrivetevi al canale così da non perdere i prossimi video e se vi va ci vediamo alla prossima, ciao ciao ciao